uno spot contro le dipendenze digitali dal corecom premi per 10.000 euro al via la campagna social per promuovere i parchi toscani le immagini più belle sui profili del consiglio regionale dal 12 al 15 agosto la nuova edizione del bruscello poliziano la manifestazione teatrale storica di monte pulciano uno spot contro le dipendenze digitali il corecom toscana ha lanciato un nuovo bando che mette a disposizione dei vincitori premi per un totale di 10.000 euro l'iniziativa rientra nel progetto toscana in spot 2023 indipendenze digitali dedicato alla lotta alle dipendenze da social videogiochi e web una nuova iniziativa davvero importante un messaggio che il corecom nuovo guidato dal presidente meacci vuole mandare con forza indipendenze digitali è un modo per dire alle ragazze e ragazzi anche i rischi connesso all'utilizzo al sovrautilizzo dei social network la pandemia ci ha resi tutti più iper connessi ci sono tanti punti di forza la possibilità di lavorare a distanza la possibilità di sfidare il futuro ma ci sono anche tanti rischi ed è bello sapere che questa iniziativa tende a premiare i tre progetti migliori che possono mandare questo messaggio allora l'educazione digitale l'educazione civica è un pezzo del lavoro dell'assemblea legislativa e voglio ringraziare il corecom per averci creduto da subito e per aver lanciato questo progetto mi auguro davvero che tante ragazze e tanti ragazzi toscani possano partecipare e che i progetti come negli anni precedenti possano essere di altissima qualità per partecipare è sufficiente essere residenti in toscana e inviare entro il 15 settembre i video dedicati al tema dei pericoli legati all'abuso dei media digitali al primo classificato un premio da 5 mila euro come corecom abbiamo subito indetto questo bando e questo premio legato proprio al tema delle dipendenze digitali crediamo un tema di grande attualità di grande importanza che riguarda le nuove generazioni ma riguarda in generale un po' tutte le generazioni il bando la scadenza fra la scadenza la data sarà il 15 settembre sarà ci sarà la possibilità di partecipare attraverso dei video della durata massima di 60 secondi dove i giovani ma non solo i giovani potranno partecipare ed esprimersi attraverso il proprio linguaggio attraverso il linguaggio audiovisivo proprio su questo tema crediamo che sia un tema di grande attualità perché insieme alle grandi potenzialità dei video dei social della rete poi c'è anche un tema di sovrautilizzo di abuso di questi strumenti per cui noi vogliamo consentire di di mettere al centro di attenzione questo argomento attraverso questi video che poi faremo girare i primi tre saranno premiati con alcuni premi economici di 5.000 3.000 2.000 euro che poi faremo girare sia attraverso i canali social sia attraverso le televisioni sia ci auguriamo anche attraverso gli ambienti delle scuole grazie tutti i dettagli e il completo alla pagina www.corecom.toscana.it fino al 10 settembre i canali social del consiglio regionale della toscana pubblicheranno quotidianamente immagini dei parchi e delle riserve della nostra regione sul modello del progetto lanciato nell'estate 2022 e dedicato ai piccoli comuni nasce la toscana dei parchi la campagna online per la valorizzazione dei parchi e delle riserve della regione l'obiettivo è far conoscere quanta storia quanta bellezza quale biodiversità ci sia nei nostri parchi la toscana è terra di arte terra di storia e terra di cultura è una terra che in grado di far conoscere la propria bellezza attraverso le coste stupende attraverso le città d'arte attraverso i borghi più piccoli ma anche una storia di parchi naturali molto molto importanti questi sono luoghi del benessere sono luoghi ricercati ormai in tutto il mondo e allora noi abbiamo deciso quest'anno come assemblea legislativa lo scorso anno l'avevamo fatto per i piccoli borghi quest'anno abbiamo deciso di sostenere far conoscere quanta bellezza è il valore dei nostri parchi naturali voglio ringraziare di cuore per il sostegno tutti i presidenti dei nostri parchi sia quelli naturali nazionali che quelli regionali per il lavoro importante che portano avanti questa è una stagione da vivere all'insegna della natura e della biodiversità quindi a tutti i turisti che vengono in toscana venite a visitarli a conoscerli venite a vedere e toccare con mano quanta bellezza c'è nei nostri parchi una campagna che punta anche a promuovere parchi come luoghi da vivere tutto l'anno ma il sero sole si vive bene anche perché da quando sono arrivato io ho cercato di aprire il più possibile perché i parchi non sono degli enclave dove devono essere solo guardati adorati devono essere vissuti perché se si vivono e si condividono si rispettano per cui noi abbiamo fatto stare a segna vivi parco abbiamo portato circa 2500 persone a fare gli eventi all'interno delle varie location nel parco e stiamo aprendo dei nuovi sentieri perché questo secondo me è il futuro. Questa iniziativa è sicuramente importante anche perché la Toscana svolge un ruolo importante all'interno del sistema delle aree protette italiane abbiamo tutti gli ambienti da quelli montani a quelli costieri litorani e quindi degli ecosistemi davvero importanti che fanno della Toscana una punta di diamante del sistema aree protette italiano. I parchi sono capaci di diversificare l'offerta di arte di paesaggio tipicamente Toscana incrementandola mettendo insieme anche un'offerta di natura un'offerta ecologica. È un tipo di turismo estremamente attuale non solo perché avvicina e sensibilizza le persone a temi importanti come quello della transizione ecologica o dei cambiamenti climatici che sono aspetti che vengono tipicamente affrontati all'interno dei parchi ma sono molto importanti perché rappresentano anche un'offerta turistica sociale perché i parchi sono un luogo abbastanza economico per vivere il mare, per vivere la montagna e quindi in un momento di difficoltà come questo i parchi svolgono un ruolo e le aree pubbliche svolgono un ruolo essenziale nell'offerta turistica. In Toscana sono presenti tre parchi nazionali, Arcipelago Toscano, Appennino, Tosco Emiliano e Foreste Casentinesi. Tre parchi regionali, Maremma, Migliarino e San Rossore Massaciuccoli, 35 riserve naturali statali e 47 riserve naturali regionali. Il Bruscello Poliziano festeggia il traguardo dell'ottantaquattresimo anno di età e lo fa con un'edizione dedicata al rapporto tra Lorenzo dei Medici e Agnolo Ambrogini, detto appunto il Poliziano. Dal 12 al 15 agosto torna dunque la grande manifestazione teatrale che da quasi un secolo è un appuntamento fisso dell'estate di Montepulciano. Il Bruscello non è soltanto un evento culturale, è anche una rievocazione storica perché la forma espressiva stessa è un'espressione storica, è una tradizione storica del nostro far teatro, raccontare le storie. Quest'anno al centro dell'edizione 2023 del Bruscello di Montepulciano la storia di Lorenzo il Magnifico e quindi un legame tra Firenze e Montepulciano che si rinnova e che ispira queste diverse giornate di spettacolo all'insegna del rapporto tra Firenze e Montepulciano e quindi dell'identità toscana tutta. Questa espressione teatrale coinvolge moltissime espressioni artistiche, moltissime persone, oltre 200 bruscellanti si contenderanno la scena e devo dire che sono quelle forme di rievocazione storica che più testimoniano la ricchezza culturale ma anche il profilo alto e raffinato della nostra espressione culturale e artistica. Un evento fortemente radicato nella cultura del territorio di Montepulciano. Il Bruscello Poliziano ormai è diventato uno degli appuntamenti più importanti della stagione culturale di Montepulciano insieme al Cantiere Internazionale d'Arte, al Brevio delle Botte e al Live Rock Festival. L'assunto chiaramente un'importanza sia da un punto di vista culturale e sociale anche perché affonda le proprie radici nella nostra identità culturale contadina, proprio il Bruscello del secolo scorso prima di arrivare nel 1939 sul Sagrato del Duomo era proprio nelle aglie contadine e quindi diciamo era anche un modo per miticare il duro lavoro che ha permesso anche di tramandare delle tradizioni per noi di fondamentale importanza e quindi è anche un motivo sicuramente attrattivo, un elemento attrattivo del turismo che segue diciamo questo filone culturale ma chiaramente anche un evento soprattutto in favore dei nostri cittadini che sicuramente insomma si raccogliono in piazza grande durante le giornate del Bruscello ad assistere appunto a un evento di notevole importanza e appunto per questo che insomma mi sento di ringraziare tutta la compagnia popolare del Bruscello per gli sforzi che anche nel corso degli anni del Covid ha dovuto sostenere per portare in scena questa rappresentazione popolare povera però di grande spessore culturale. E nonostante i suoi 84 anni di età anche per questa edizione il Bruscello riserva tante novità. Benché questa compagnia veste quest'anno 84 anni di attività e negli ultimi anni ha portato sempre delle novità anche quest'anno abbiamo una novità. La più importante mi piace sottolineare è quella della scelta del maestro di musica che è un giovanissimo che si chiama Imar Canning ed è un vero talento e ci teniamo tantissimo a presentarlo sul nostro palcoscenico, sul nostro sagrato. Quindi è Lorenzo il Magnifico, il poliziano alla Corte dei Medici, una storia nuova scritta da Chiara Protasi e Irene Tofanini, diretta da Marco Mosconi con le coreografie di Maria Stella Poggioni, la direzione artistica di Franco Romani. Siamo in Piazza Grande dal 12 al 15 d'agosto. C'è stato questo passaggio di testimone con il precedente direttore musicale che è stato Alessio Tiezzi e niente quindi per me è un po' come il battesimo nella compagnia popolare del Bruscello perché diciamo che il Bruscello è sempre stata una manifestazione a cui ho assistito ma appunto ritrovarmi a fare il direttore musicale di questo importantissimo evento è un grande onore e le novità sono nel libretto, nella musica che è un soggetto nuovo, è completamente inedito, non era mai stato scritto precedentemente. Per questa edizione è tutto, potete seguire le attività del Consiglio regionale e le dirette a tutti, potete seguire le attività delle attività del territorio Neptunale e le direttore